Buonasera a tutti, siamo qui nella campus virtuale dell'Istituto Italiano Design per un altro appuntamento del ciclo ad altissima formazione IBIS Open. Oggi abbiamo ancora con noi un ospite di eccezione, il dottor Giampietro Sacchi che salutiamo. Giampietro Sacchi è progettista di interni e direttore di alcuni corsi di alta formazione presso il Poli Design ed è con noi da Milano oggi. Buonasera a tutti. Abbiamo poi il nostro communication specialist a moderare Nicola Palungo, ciao Nicola. Ciao a tutti. E ancora una chiacchierata in compagnia dei nostri docenti Marta Toni e Francesco Petorari. Ciao a tutti. Ancora altri interior designer, io vi lascio un buona compagnia e buon ascolto a tutti. Grazie. Bene, allora siamo qui per questa veloce chiacchierata, non vi ruberemo più di una mezz'oretta, 40 minuti di tempo, ognuno di noi ha delle cose da fare dopo, so che Giampiero ha la sua bici pronta, quindi iniziamo subito partendo un pochino con questo discorso so che sia Marta che Francesco hanno delle domande, ovviamente è il periodo, l'abbiamo visto, è stato critico, ora lo stiamo superando forse, quindi il quesito è come l'architettura, come il design può aiutare i ristoranti, diciamo alcuni settori anche dell'economia, molto importante a superare questa fase, quindi lascio la parola magari a Marta per introdurre un pochino la problematica e a porre i primi quesiti a Giampietro. Allora, questo ovviamente, questo periodo che ci ha costretto a stare con il coronavirus a casa, ci ha fatto cambiare e pensare anche a un modo diverso diciamo di interpretare sia la casa sia i ristoranti e tutto il mondo orecca, cioè ristorante, caffè, hotel e penso che noi progettisti dovremmo essere persone che studiano qualcosa di innovativo per andare incontro a queste esigenze che ovviamente invece sono di carattere proprio sanitario. Quindi che non diventi ovviamente solo un problema di aiutare a non avere paura ma più che altro a diventare degli stimoli per dei nuovi comportamenti. Io voglio chiedere a Giampietro proprio come la vede lui questo, questi, che tipi di cambiamenti vede lui in questo settore. Allora, grazie Marta. Dunque, il discorso è ovviamente abbastanza complicato. In questi giorni, peraltro, ci sono notizie molto contrastanti. Io per il lavoro che faccio devo stare costantemente aggiornato, per cui non parlerò delle varie dichiarazioni, dei vari medici, virologi, no? Si dice tutto, il contrario di tutto non si capisce niente. Per cui noi come professionisti, a parte la nostra opinione personale, dobbiamo tenere fede alle ordinanze che escono e che sono emesse dalle varie regioni e anche qui ovviamente c'è confusione perché cambiano da regione a regione. Da noi ieri è uscita la 555 sulla regione Lombardia con un allegato molto lungo che di fatto però non cambia sostanzialmente il cuore del problema. Ok, ci si potrà spostare da regione a regione così finalmente magari potrò venire a trovarvi. Però le regole legate al distanziamento e alle regole igienico-sanitarie di sanificazione resteranno pressoché lo stesso. In alcune situazioni saranno più facili da gestire, in altre decisamente più difficili. Ovviamente nei ristoranti, faccio un esempio, più grandi sarà più semplice gestire i flussi, gestire il distanziamento. In quelli più piccoli, nonostante alcuni comuni abbiano dato a disposizione gratuitamente degli spazi esterni, sicuramente la situazione sarà più difficile da gestire. Questa è una crisi, non parliamo di quella, come dire, dell'epidemia che ovviamente è tremenda perché ha fatto 300.000 morti in tutto il mondo, possiamo anche dire che comunque sono la metà dei morti che fa normalmente un'influenza normale. Ma questa è stata particolarmente aggressiva e veloce nel colpire tutti. Ed è la prima crisi che ha visto contemporaneamente crollare sia la domanda che l'offerta. Perché con il lockdown sostanzialmente non c'era né chi poteva chiedere né chi poteva offrire. E questo credo sia abbastanza epocale come cambiamento. È successo in tutto il mondo, in Cina prima. Io, come sapete, fino all'anno scorso passavo quasi cinque mesi del mio tempo in Cina, per cui ho avuto modo di conoscere loro e ho visto come hanno reagito in fase 2, che per loro è iniziata a febbraio. Parlo, per esempio, siccome si diceva il cambio dei comportamenti. Il nostro comportamento, diciamo, da utente sicuramente cambierà o è già cambiato, perché necessariamente dopo due mesi di fermo ci si abitua ad un altro ritmo. Ma quello che dovrebbe cambiare è sostanzialmente l'atteggiamento dei gestori, che hanno reagito, posso dire, in maniera a volte capisco l'esigenza, l'urgenza e la voglia di, come dire, riprendere, però hanno agito in maniera un po' scomposta, senza pensare una strategia, ma semplicemente apriamo e quel che succede, succede. Sì, con tutte le precauzioni del caso. Una cosa che io consiglio, per esempio, ai miei clienti è quello, soprattutto nelle grandi città, è quello di rafforzare la parte legata al delivery. Perché questo? Perché in Cina, per esempio, in fase di lockdown, il fatto 100 delivery che loro usano molto food e non food, durante il lockdown è raddoppiato completamente. Loro sono già usciti dall'emergenza, ma nonostante tutto il delivery continua a rimanere a livelli molto alti, circa 180%. Per cui vuol dire che ancora le persone non si sono abituate completamente ad uscire. E il distanziamento sociale, ovviamente, riduce quelli che sono i rapporti sociali e ci sono degli studi sociologici fatti anche in Italia, in cui sostanzialmente le persone si dividono in tre grosse linee di pensiero. Quello che dice, va bene, è passata, andiamo avanti. Quello che dice, no no, io ho paura, resto a casa, è quello sostanzialmente che ancora non sa assolutamente che cosa fare, per cui non si schiera. Però sembra che queste percentuali siano indicativamente 30-30-30, per cui tre comportamenti diversi, per cui tre risposte diverse, per cui non semplice, diciamo, come soluzione anche da dare ai nostri clienti. Questa è la prima considerazione. sicuramente ci sono, io credo che più che delle soluzioni architettoniche, interior, che sicuramente vanno considerate, ci siano delle indicazioni che noi dovremmo dare proprio a livello di strategia di business, che sono importanti. I ristoranti, i bar, i luoghi pubblici, poi gli alberghi sono un discorso un po' a parte. Sostanzialmente devono adattarsi, o avrebbero dovuto adattarsi con un po' più di flessibilità, pensare un attimo prima a quelli che sarebbero stati in, come dire, i problemi legati alle aree aperture, ma non tanto alla sanificazione, ma proprio perché per le normative alcuni ristoranti, bar, non possono accettare più del 20-30% del loro, come dire, normale pubblico. Allora, come fare cassa? Come sopravvivere in questo modo? Allora, c'è chi sostanzialmente, perché dobbiamo parlare chiaro, siamo tra colleghi, c'è chi non rispetta le regole, per cui prima o poi verrà bastonato, c'è chi le fa rispettare, però ovviamente vede il suo income quotidiano molto basso, per cui probabilmente non potrà coprire le spese, e c'è chi proprio non riesce a scollarsi, diciamo, dallo stereotipo, io ho sempre fatto così, per cui vado avanti a fare così. È il momento di aprire, di aprire a orari diversi, di offrire cibo, diciamo, non chiudere la cucina, perché tanto il costo della cucina è quello, una volta che hai acceso tutto, voglio dire, fa poca differenza tenerla aperta un'ora in più, un'ora in meno. Diciamo che la turnazione aiuterebbe forse ad avere gente distanziata, sicura, per un periodo più lungo. Quante volte ci è capitato di arrivare al ristorante alle due e sentirci dire, almeno qui a Milano, da voi so che siete un po' più morbidi, però sentirci dire la cucina è chiusa e tu devi mangiare un panino fatto al volo e non ti puoi neanche sedere. Certo, questo è, scusami Gianpietro, se ti interrompo, partendo ovviamente da tutto questo, so che la risposta ovviamente che i progettisti devono dare è importante e so che Francesco in verità a questo ha una domanda, giusto Francesco? Sì, Gianpietro, volevo chiederti questo in particolare. Giustamente ti hai fatto notare che siamo sottoposti a delle normative che in teoria hanno carattere temporaneo, cioè dovrebbero durare per i prossimi mesi e poi si dovrebbe ritornare ad un'ipotetica normalità. Però allo stesso tempo hai anche sottolineato come la normalità sta per cambiare, cioè non sarà più la normalità precedente ma sarà una nuova normalità. La mia domanda è, secondo te, secondo gli studi che hai potuto fare finora, come dovrebbe un designer approcciarsi a questo spazzamento temporale, cioè all'idea che per il momento dobbiamo mettere delle regole e poi saranno delle regole nuove che però ancora non conosciamo. Certo. Questo è molto difficile. Diciamo che il nostro lavoro, forse perché io mi occupo anche di design strategico, per cui ormai, voglio dire, a noi progettisti non chiedono solo più delle idee o un progetto, ci chiedono una strategia, in qualche modo, dei consigli per poter aumentare il business. Questo è stato pre-Covid, lo è adesso e sostanzialmente lo sarà sempre. Io credo che ci siano dei consigli da dare anche su, alcuni si sono già mossi in questo senso, cioè menù più snelli, piatti che possono essere consumati in maniera veloce, magari pre-preparati, per cui adesso ci sono dei sistemi di cottura che permettono veramente di tenere la catena del caldo, come si mantiene la catena del freddo. Per cui si può preparare in anticipo, non avere sprechi e servire molte più persone. Per cui sicuramente l'imprenditore che vuole effettivamente rispettare le regole, per cui non fare il pieno rischiando la chiusura, deve cambiare anche il modo di lavorare. Questo lo si consiglia, ma non sempre ovviamente si viene ascoltati. Per cui a volte ci capita di subentrare in situazioni che magari sono già state affrontate dall'imprenditore, dal proprietario, e vediamo delle cose, perdonatemi, a volte agghiaccianti, cioè percorsi in terra segnati con le righe gialle, come se si fosse su una scena del crimine o in un cantiere. Cioè, caspita, io mi dico, sarà che sono 34 anni che faccio questo lavoro, però tra fare una cosa bene e fare una cosa male ci vuole lo stesso tempo e probabilmente anche lo stesso investimento. Confermo che io ho visto di tutto in questi giorni e sono rimasto scioccato. Ecco, quello che serve è ridare vero fiducia a coloro che devono ricominciare, perché è giusto anche, io non ho più voglia di uscire più tanta, però trovo giusto dare una mano anche a far partire l'economia. Per cui mi forzo e vado anche a vedere che cosa sta succedendo in giro, per cui unisco l'utile al dilettevole. E vedo che c'è molto presso, non mi viene, va bene, ragazzi, non mi viene questa parola. Presso pochismo, presso pochismo. È difficile. È molto, molto difficile. E questo è un peccato, perché, devo dire, il nostro ruolo non deve essere sempre quello dei salvatori della patria, quando si vede che le cose non vanno bene, allora si chiama il progettista o l'architetto. Lo si può tranquillamente chiamare prima, no? Per cercare di trovare delle soluzioni che possano andare anche oltre le ordinanze. Cioè, le ordinanze dobbiamo seguirle. Poi il nostro ruolo è quello di dare delle soluzioni che possano essere estetiche, pratiche, funzionali, per poter permettere a queste persone di lavorare di più. Abbiamo... scusami, concludi così ti lancio la domanda dal pubblico. Sì, no, la cosa che mi ha colpito molto è che, non riuscendo a ottenere risultati, perché voglio dire, anche l'occhio vuole la sua parte, no? Per cui tu esci, finalmente esci, spendi e non vuoi trovarti, ripeto, in un posto che sembra un cantiere. Allora, qualche genio, che io rispetto, perché capisco che uno deve recuperare, ha attuato la politica di alzare i prezzi, che è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare in questo momento, no? Si dovrebbe dare, come dire, un segnale di apertura per recuperare sostanzialmente i clienti che sono stati persi, fargli capire che quello è un locale sicuro, dove può tornare a mangiare, perché bisogna anche comunicare molto, non solo dicendo, lì c'è il gel e lì ci sono i guanti, anche sui siti, sui canali social, cioè comunichiamo che abbiamo prezzi buoni, la qualità non è scesa e che possiamo offrire lo stesso servizio di prima per riprendere e riconquistarsi il cliente, questo è fondamentale. Da questo punto di vista posso dire, visto che mi occupo proprio di questo, di comunicazione digitale, che finalmente, o comunque a causa di questa fase, tantissime piccole aziende hanno finalmente capito qual è il ruolo della comunicazione online, però questa comunicazione online, come diceva Gian Pietro, effettivamente non trova poi un riscontro nell'interior design dell'azienda, perché ci troviamo con queste foglie di carta appesi ovunque, Marta poi, se vuole intervenire, mi parlava appunto di questi plexiglass ovunque, come separatori, che comunque non trovano... Nel hotel, nel ristorante, troviamo plexiglass, troviamo adesivi per terra di tutti i tipi, le X, i tondini, aspettate qui... Cioè, qualunque cosa, qualunque comunicazione, svariata comunicazione, che poi non comunica poi fondamenti, nel senso che magari crea solo quell'evoluzione. Vi lancio intanto la domanda di Diana Magri, la lancio a tutti, in particolare a Gian Pietro, perché è il nostro ospite, ma Diana chiede, in qualità di architetto, pensa che gli spazi di convivenza, come gli uffici, co-working, hotel, abitazioni, avranno particolari cambiamenti per fronte non solo all'emergenza, ma anche ad una situazione nuova in relazione al nostro diverso vivere? Cioè, i cambiamenti che stiamo vivendo, saranno poi permanenti da un punto di vista nei luoghi pubblici, o si tornerà alla vita di prima? Allora, domanda ovviamente non semplice. Sicuramente questa è una crisi, cioè il nostro cambiamento di stile è trasversale, a qualunque attività noi si faccia. Che si vada in palestra, che si viaggi, che si vada in albergo, al ristorante, in ufficio, o in qualunque altra situazione. Adesso sembra riapriranno anche i cinema, per cui lì c'è un problema di filtrazione dell'aria, poi se volete entrare più nel tecnico lo potremo fare dopo. Però per rispondere alla domanda, allora sicuramente ci saranno, questo non lo dico io, lo dicono gli studi, ci saranno dei cambiamenti che resteranno tali. Per cui probabilmente si opterà per uscire meno, ma per uscire, diciamo, andando a mangiare o bere in un posto dove c'è qualità. Per cui proprio quello che non bisogna fare in questo momento è far scendere la qualità per diminuire il food cost, sostanzialmente, e provare a marginare di più. È la cosa più sbagliata, come dicevo prima, come aumentare i prezzi, è la cosa più sbagliata che si possa dare. Ci saranno sicuramente dei cambiamenti, molte aziende, ormai a un dato consolidato, hanno stabilito di continuare, addirittura di cambiare i contratti, e di continuare a far lavorare la maggior parte dei loro impiegati in back office, o esattamente in smart working, perché si sono perfettamente resi conto, noi siamo l'ultimo paese al mondo ad esserci arrivati, però che è estremamente efficace, non ci sono tempi morti, si fanno per una riunione, si chiude, è finito, non c'è l'intro, il dopo, il caffè, le cose, per cui si è anche più efficienti, certo è stancante, perché farne una dietro l'altra è sicuramente stancante, però questo cambierà anche qualcosa nel mondo della ristorazione e dei bar, ma anche per gli alberghi, molte aziende continueranno, come dicevo prima, a tenere la gente a casa, per cui chi lavorava molto con gli uffici a mezzogiorno, dovrà tenere presente di questo cambiamento, perché molte aziende stanno già cercando di muoversi o di sostanzialmente adibire gli spazi che avevano prima, magari anche come mensa interna, in locali più informali, dove la gente possa, attraverso servizi che già esistono, ma che si implementeranno, sostanzialmente far arrivare un pack già completo, ordinato via internet, direttamente ai dipendenti, questo vale soprattutto per le grosse aziende, le multinazionali, in modo che i metri quadri che erano dedicati alla cucina della mensa interna, vengano recuperati e che si possa dare molto più spazio, magari con una caffetteria e poi appunto dei tavolini separati dove mangiare e questo secondo me porterà via ulteriormente clientela ai bar e ai ristoranti, soprattutto nella pausa lavoro, diciamo, pausa pranzo. Sì, abbiamo ancora domande, intanto Walter Sbicca ti saluta. Ti saluto, mio caro amico. Un momento caramba. E poi vediamo invece alla domanda di uno dei nostri studenti, Gianmarco, che chiede appunto per quanto riguarda l'università, ovviamente anche lui, come tutti i nostri studenti, ha vissuto purtroppo questa fase abbastanza delirante, la difficoltà del, diciamo, delle lezioni online, ma secondo il tuo parere, Gianpietro, cosa succederà se l'università riaprirà e magari appunto questi luoghi come l'università, come riusciranno a coniugare in qualche modo il problema del distanziamento, se continuerà questo problema? Ecco, allora, siccome la situazione è continuamente in progress, io parlo per noi come Polidesign, che siamo parte del Politecnico di Milano, a parte il fatto che noi siamo pure in trasloco, cioè non bastava il virus, adesso stiamo anche traslocando, per cui comunque fino a settembre non saremo operativi, il problema è molto semplice, secondo me, è anche abbastanza, come dire, già scritto, ammesso che veramente durante l'estate questo caro Covid-19 non ci lasci, ma la paura di tutti è quello che possa poi esserci una seconda ondata con l'autunno-inverno. Io credo che molti corsi, quelli all'estero sicuramente, cioè i miei corsi in Cina saranno ovviamente solo online, perché non ci si può muovere, a meno che non fare la quarantena prima, la quarantena dopo, perché uno deve stare via due mesi sostanzialmente per fare un corso, ma anche qui stiamo lavorando sui corsi che saranno da qui all'estate completamente online. Da settembre una doppia opzione, a seconda di come si metteranno le cose, ma anche se si dovesse liberare tutto, cioè tutti liberi, venite tutti a fare lezioni in aula, lì si pone un altro problema, quello del distanziamento. Vuol dire che un'aula che prima per tenere 20 persone in un'aula deve usare una da 50. Per cui ovviamente carenza di spazi, spese maggiori e difficoltà a far convivere in un luogo pubblico come quello che è l'università o un istituto di formazione post-universitaria come il nostro, centinaia di persone nello stesso momento che si radunavano, per esempio per la pausa caffè, cioè non c'era assembramento, oltre non si riusciva nemmeno a passarci attraverso. Per cui sicuramente andranno contingentati, andranno fatti dei conti molto ben fatti per far sì che le strutture non scoppino o non mettano in crisi la didattica. Secondo me l'online, anche in questo caso, come lo smart working, resterà ancora per un lungo tempo. Spese minori per tutti. Abbiamo ancora una domanda da Diana che ci chiede come ripensare, qual è la tua idea di ripensamento e riadattamento degli spazi domestici, perché oramai, grazie a causa dello smart working, la casa è ritornata ad essere quel fulcro, quel luogo che per tantissimi decenni è stato per magari persone venute diciamo qualche decennio fa, era importante sia per il luogo che come vita vissuta e quindi come ripensare i spazi, soprattutto perché magari spesso nelle grandi città, ma anche quelle più piccole, i spazi sono sempre ridotti. Quindi come concepire questi spazi? Magari qui Francesco, che ha avuto un'esperienza in Asia, ci può dare un'idea di come lì i piccoli spazi che si sono stati progettati al meglio? Sì, certo. Credo che ci, diciamo, quello che c'è di interessante con questo lockdown, diciamo al netto del fatto che comunque è stata un'esperienza in generale negativa, perché si era costretti, una cosa positiva secondo me è stata che siamo stati tutti costretti ad osservare le nostre case e quindi in qualche modo a vederle e a ripensarle. Trovo che, per esempio, l'esempio della palestra sia calzante, nel senso che molte persone probabilmente continueranno a fare esercizi a casa così come hanno fatto in alternativa ad andare alla palestra. Io mi sono permesso di fare un po' di ricerche e da quello che ho notato, per esempio, una certa tendenza sarà quella di trovare non tanto spazi più grandi o spazi più piccoli da riutilizzare, ma più che altro spazi flessibili, quindi per avere magari degli spazi che in un certo momento della giornata possono diventare l'ufficetto, in un altro momento diventano l'area giochi per i bambini, in un terzo momento diventano la palestra. Quindi probabilmente più che grandi stanze ci sarà la stanza in più che potrà essere utilizzata in questo modo. Mi facevano notare, per esempio, la mia collega Barbara Sala mi faceva notare per esempio quanto è interessante il fatto che l'ingresso che sostanzialmente è un oggetto che è scomparso dalle nostre case perché c'è stata così la tendenza all'open space, si è ritornato diciamo uno spazio interessante da attrezzare perché diciamo è lo spazio filtro tra l'interno e l'esterno per cui ci si tolgono le scarpe e come dicevi tu Nicola stiamo diventando un pochino più asiatici, un pochino più giapponesi quindi la cura riporre le scarpe avere magari il disinfettante lì vicino per le chiavi per il telefono in modo tale da non trasmettere poi sappiamo che il telefono è l'oggetto che è più veicolo diciamo di battere i germi quindi insomma un po' di abitudini cambieranno. Sì poi anche Gian Pietro che è in Cina a metà della sua vita probabilmente e ero ahimè ero molto tornare al più presto magari loro che hanno vissuto anche scusami se ti interrompo hanno vissuto già altre epidemie io mi ricordo leggendo un libro su Alibaba che nel 2002 se non sbaglio ci fu un'altra mega epidemia che spinse molto verso l'online la Cina e loro già allora penso riconcepirono un pochino gli spazi interni se non sbaglio ma diciamo il popolo cinese è un popolo complesso ancorato molto alle tradizioni ma per altri versi mostruosamente più avanti di noi c'è proprio la parte culturale del rispetto della casa che magari invece noi avevamo un attimo perso no non è senso che si entrava e si demolì sì vabbè i bambini continuano a farlo però si entrava si girava con le scarpe in tutti gli ambienti eccetera io personalmente non l'ho mai fatto proprio per questo motivo per cui indipendentemente da pandemie o problemi proprio per una questione mia genica ritenevo che quello che portavo in casa dovesse rimanere quantomeno all'ingresso cambieranno sì gli spazi ove possibile ovviamente sono privilegiati soprattutto d'estate coloro che hanno un balcone un terrazzo dove poter uscire o portarsi l'ufficetto provvisorio perché immaginate quando sono in due a lavorare contemporaneamente in casa marito e moglie con i bambini che fanno casino dall'altra parte cioè questi sono problemi quotidiani no importanti e poi sicuramente bisogna parlare di una sorta di nuovo galateo cioè anche quando riceviamo le persone non dovremo più farci scrupoli come magari succedeva prima dire scusa togliti le scarpe indicagli subito dove è il bagno per lavarsi le mani sarà utile come nei locali nei ristoranti non è più possibile questo è proprio vietatissimo il buffet la stessa cosa vale anche per casa per cui bisognerà monoporzionare le cose magari dare dei bicchieri di colore diverso affinché nessuno poi lo scambi con qualcun altro cioè piccoli accorgimenti che comunque ci permetteranno di e poi dire chiaramente se la casa è piccola ragazzi cioè ci vediamo stasera ci vediamo in quattro e un'altra sera ci vediamo ci vedremo in altri per cui dipende anche molto dallo spazio che abbiamo a disposizione ma secondo me non c'è bisogno di spiegare queste cose credo che già le persone lo stiano facendo per cui qualcosa è già sicuramente cambiato da questo punto di vista sarà interessante se posso sarà interessante notare anche come cambierà il mercato immobiliare per esempio perché io ho trovato alcuni studi fatti per esempio da casa.it bisognerebbe chiedersi la gente vorrà continuare a stare nel proprio quartiere avrà ripensato vorrà andare fuori in campagna chi è stato in campagna durante il lockdown penserà no è meglio avere il supermercato vicino io per esempio vedevo che su 3.000 persone intervistate tra quelli che già erano in fase di compravendita il 17% si è detto ancora più convinto di voler cambiare casa quindi sarà interessante vedere come evolverà il mercato certo io volevo se non ci sono altre domande magari riportare un attimino il focus su quello che possiamo fare noi per per il mondo diciamo oreca no per cui tra parentesi mi permetto di dire che non so se posso perché sì però direi di sì poi ti lancio altre domande ecco il 6 di giugno partirà proprio un'edizione del corso oreca design che è la 17esima edizione che dirigo io da diversi anni sarà proprio uno speciale covid proprio per dare degli strumenti immediatamente spendibili a chi partecipa possono essere progettisti o imprenditori per capire esattamente da fare un po' di chiarezza in mezzo a questo gran pasticcio e noi siamo pronti adesso io so che Marta anche qui giustamente tra progettisti come tra medici eccetera non è per esempio propensa all'utilizzo dei separatori in PMMA cioè diciamo in plexiglass invece io trovo però ovviamente sono pronto al confronto e bisogna capire anche che tipo di PMMA si usa perché ce ne sono di tutte le qualità alcuni hanno proprietà innanzitutto non ingialliscono non si rigano possono essere facilmente sanificabili hanno un effetto anche di migliorare l'acustica sostanzialmente del locale possono essere personalizzati serigrafati con il logo del locale possono avere delle luci led sul bordo che possono anche creare atmosfera cioè se ben fatto secondo me un locale con questi separatori come dire di design ok usiamo questa parola tanto abusata potrebbe essere un buon esempio invece per questo periodo perché adesso tutti si stanno occupando della stagione estiva la stagione estiva è già cominciata ma finirà leggevo da qualche parte che sarebbe molto interessante mi ero anche confrontato con Marta usare per esempio delle separazioni fatte con del verde e c'è da dire ed è anche da suggerire che tutti pensano di magari dover spendere migliaia di euro per comprarsi un parco da mettere per separare eccetera invece faremo anche cosa buona e giusta noleggiare questo verde da tutte quelle aziende che per anni hanno servito le fiere e tutti gli eventi legati alla moda al design sono dei grossi vivai che noleggiano per un tempo X le loro piante e sostanzialmente poi le ritirano quando è finito l'evento è finita la fiera ecco questa è una come dire una furbata che si potrebbe fare beh innanzitutto aiutando queste aziende che hanno fatto meno 100% di fatturato segui meno 100% non hanno più fatto niente fiere chiusa eventi chiusi moda off design week finita no questo sicuramente però bisogna spiegare ai nostri committenti che si possono anche noleggiare poi per il periodo invernale vi vedremo come che cosa succederà come si evolverà la situazione e poi cioè lavoreremo insieme l'importante è lavorare insieme ai clienti per cui cercare di capire le loro esigenze ma anche cercare di capire che la nostra esperienza insomma caspita qualcosa dovrà pur servire a qualcosa io cerco di volevo fare una domanda se a livello nazionale c'è stato un movimento che è riuscito di quello che sapete voi ovviamente è riuscito a coniugare un pochino tutte queste anime cioè aziende che magari hanno perso un sacco di fatturato la confindustria che magari la confcommercio che rappresenta i commercianti cioè si è creata rete o siamo ancora come di solito in Italia fermi ognuno va per conto suo e chi si salvi chi può questa è una mia domanda che vi pongo poi ovviamente due la risposta due cioè ognuno va come gli pare lo immaginavo perché figuriamoci se no poi magari se avete voi avuto un esempio in cui magari voi stessi siete riusciti a unire due aziende che hanno fatto rete e che possono fare da case history per altri questa è la mia domanda io sono riuscito in questo momento a creare essendo stato nominato coordinatore del comitato scientifico di una FCSI che è una socialmente un'ente mondiale un'associazione di food service designer e consultants abbiamo finalmente ne parlavamo da tempo siamo riusciti a mettere insieme molte competenze cioè quella del designer quella dell'architetto quella dell'ingegnere quella del tecnologo alimentare quella del biologo proprio per cercare di dare però a livello di consulenza voglio dire non tanto di gruppo di imprese però essendoci molti associati membri alliance da tutto il mondo noi siamo l'italian unit però queste aziende potrebbero effettivamente tramite diciamo l'associazione trovare il modo di garantire un maggior guadagno trovare soluzioni che possano andare bene a tutti per far ripartire la macchina però in Italia come dicevi fare sistema è la cosa più complicata del mondo intanto mentre non so se Marta o Francesca hanno domande recupero quelle vecchie c'è Gianmarco che fa un po' di umorismo però magari può essere ma io lo conosco il signore lì ha frequentato uno dei miei corsi ecco Gianmarco Lombardo dice tutto sommato durante gli episodi di isteria e di reclusione si sarà pur fatto un po' di spazio frantumando un comodino un tavolino quindi voglio chiedere se qualcuno è riuscito a trovare spazio distruggendo dei mobili questa potrebbe essere una delle soluzioni e poi abbiamo Diana che invece ci porta mi sa in un diciamo a un livello troppo superiore credo per diciamo l'incontro che abbiamo oggi cioè come l'intelligenza artificiale può in qualche modo modificare comunque aiutare il futuro dell'interior design ok quindi vi lancio questa palla e ho paura perché credo sia difficile no in realtà l'intelligenza artificiale noi la stiamo già utilizzando senza saperlo cioè quasi tutti i nostri device sono almeno quelli dell'ultima generazione sono gestiti dall'intelligenza artificiale per cui memorizzano una serie di azioni parole anche quando usiamo la macchina fotografica lui già capisce quale sono le nostre preferenze impara progressivamente e ci propone già sostanzialmente le cose che ci servono la tecnologia gestito meno dalla intelligenza artificiale farà un avrà un ruolo da leone in questa in questa parte perché le app saranno sempre più utilizzate sostituiranno i menu si potrà ordinare come succede in Cina da casa addirittura pagare arrivare al ristorante e trovare già come dire tutto pronto senza dover chiedere niente a nessuno non si dovrà più toccare quasi nulla ci sono ormai gli scherni no touch per cui non i touch screen ma i no touch basta avvicinare sostanzialmente il dito loro percepiscono e addirittura il riconoscimento facciale magari qualcuno di voi lo utilizza sul telefonino io l'avevo inserito e quando avevo la mascherina ovviamente non mi riconosceva per cui come scopo a capire quale fosse il problema però è molto preciso per cui ero sempre io ma lui non mi riconosceva e non mi dava come dire il semaforo verde queste sono cose che all'ingresso di un ristorante di un bar o di un albergo possono aiutare a fare il check in il check out senza toccare senza perdere tempo la tecnologia sicuramente ci aiuterà moltissimo ma ci sta anche aiutando adesso lavorando quotidianamente ma può essere applicata e già molti lo stanno facendo a molte funzioni che prima erano cartacee il menu delle due l'una o lo sanifichi tutte le volte ed è di plastica e tu lo toccheresti uno che boh l'ha toccato l'altro oppure usa e getta allora bene consumiamo carta buttiamo via tutto cioè con un'app diciamo possiamo risolvere toccando solo il nostro telefono di cui ci fidiamo anche se portatore come diceva Francesco di batteri ma questo lo è sempre stato però è nostro per cui non tocchiamo niente che hanno toccato gli altri c'è intanto visto che Marta voleva fare una domanda no io confermo quello che diceva Gianpietro perché molti miei clienti hanno già chiesto di fare il menu online e il menu digitale comunque con test code che poi arrivano trovano all'interno del ristorante e lo vedono nel loro telefonino o una pad che viene dato e nell'hotel adesso c'è il check-in sia online prima e sia la colonnina per il passaporto per visionare il passaporto come negli aeroporti praticamente e questo sarà un po' il futuro realmente dell'hotel perché e così anche la colazione la colazione si ritorna a portarla in camera per cioè non come una cosa optional ma come servizio standard si richiede la sera prima se è salata se le tipologie poi viene portata in camera in automatico e gli orari quindi il buffet scompaierà completamente almeno per ora perché se no comunque c'è una problematica di orari e di anche di sanificazione insomma ecco molto complicata molti alberghi stanno aspettando questo cioè nel senso aprono con con dei pack insomma con dei packaging apposta per la camera occorre l'occasione perché già prima Gian Pietro parlava di salubrità eccetera e adesso anche Marta e c'è anche una domanda che chiede appunto c'è Francesco Di Chio che è un collega che chiede certificazioni salubrità sostenibilità e provenienze dei materiali per l'edilizia e per l'arredo torneranno a essere protagonisti Sicuramente lo sono anche in questo periodo magari siamo semplicemente meno attenti per quello che dicevo che il ruolo del designer comunque è importante proprio per non distruggere o cambiare totalmente identità mantenere il genius loci cercando di dare soluzioni che possano essere compatibili con quello che è la storia magari di questo locale o semplicemente il mood i materiali certo assolutamente l'importante è che siano oggi sanificabili ma ci sono mille soluzioni ci sono delle vernici trasparenti che possono essere stese per terra o spruzzate sui mobili che li rendono praticamente antibatterici per cui con dei processi insomma particolare non sono un chimico ma ho letto mi sono documentato per cui si potrà comunque ma una delle cose che sicuramente non si potrà più come dire trascurare è la qualità dell'aria interna ma non tanto per il covid perché nell'aria che noi respiriamo all'interno di un ristorante sono stati fatti delle ricerche oltre il 60% delle canalizzazioni dell'aria condizionata sono alberghi ristoranti bar eccetera sono contaminati e contaminati vuol dire virus batteri come la legionella non dimentichiamo la legionella uccide ancora e si forma nell'umidità o nell'acqua muffe acari funghi se volete vado avanti ma non vorrei disgustarvi ma queste sono cose che dovrebbero essere già gestite dalla HACCP il problema nostro è che se partiamo da nulla e vogliamo arrivare ad essere sicuri contro il virus in mezzo ci manca come dire un pezzo molto grosso coloro che si sono comportati in maniera adeguata hanno fatto tutti i controlli e le sanificazioni come già previsto in precedenza devono semplicemente modificare e mettere in atto delle come dire precauzioni contro il covid ma il resto non può essere trascurato continuo intanto poi Francesco se hai altre domande anche tu Marta fermatemi sicuramente Arbi che è uno dei nostri studenti chiede appunto come si debba necessariamente tornare a parlare di verde perché magari anche per questioni di spazio e altre motivazioni è venuto a mancare sempre di più nei luoghi che abitiamo e appunto allora quale può essere una soluzione come sfruttare lui dice il balcone io aggiungerei il terrazzo per chi ha la possibilità quali possono essere le diciamo le soluzioni più auspicabili per un futuro senza cambiare per forza a casa come ripensare la casa quindi questo diciamo posso posso magari dire una cosa che tra nell'intervista che citavo prima il 60% delle persone che hanno deciso di cambiare i propri gusti sono andati verso una casa che avesse almeno un giardino e quasi la metà verso quelle che persone che cercavano terrazze più grandi io credo che non credo che ci sia moltissimo da fare in questo caso cioè chi ha già un giardino chi ha già un terrazzo più o meno lo sta vivendo pensate quante persone si sono messe a fare anche giardinaggio durante il lockdown sicuramente lo cureranno di più però enormi soluzioni non ci sono vedo però Gianpietro che forse ce l'ha io ho fatto giardinaggio durante perché ho un terrazzo per esempio si diceva quando ci siamo sentiti precedentemente con Gianpietro e Marta per esempio del ruolo dei parchi non potendo più andare magari non potendo più affollare i ristoranti e non volendo fare il take away semplicemente a casa singolarmente magari gli spazi pubblici come i parchi possono diventare delle aree in cui le persone si incontrano e mangiano insieme sostanzialmente avendo grandi superfici anche a distanze ragionevoli per cui anche chi progetta parchi magari oppure le amministrazioni dovranno forse fare fronte anche a questo piccolo tipo di novità certo diciamo per il verde in sé ovviamente se non c'è spazio è complicato portarlo in casa e poi dipende anche molto dall'esposizione dalla luce io per esempio col pollice nero non potrei mettermi cioè portare piante in casa perché ci ho provato e non ha non ha funzionato però ci sono per esempio gli ozonizzatori che riescono a migliorare la qualità dell'aria interna anche senza la presenza di piante poi ci sono delle piante specifiche ma non è il mio settore che purificano l'aria interna per cui si tratta magari di trovare un angolo di fare una parete verte verticale magari ecco per questi piccoli escamotage lo spazio si può anche trovare vedo sotto una domanda interessante sì c'è una domanda magari ditemi se siete stanchi così chiudiamo con questa visto che abbiamo superato i 50 minuti non ce ne siamo arrivati conto perché era interessante allora posso passare questo elicottero Francesco l'ho silenziato perché mi sa che fa un sacco di umore Diana ha un'altra domanda che è viste le ottiche future scusate quale specializzazione di figure professionali saranno più ricercate nel campo del design credo che questa sia la cosa che interessi più ovviamente gli studenti cioè dove va il design come specializzarsi quali sono le figure del futuro allora qui ho una risposta che fa parte del mio modo di essere io ho lavorato molto all'estero allora non c'è una specializzazione che in questo periodo in futuro può essere migliore di un'altra perché effettivamente non sappiamo bene dove andremo quello che io dico continuo a dire è ci vogliono delle competenze multidisciplinari invece di mettersi insieme un architetto un altro architetto un designer eccetera trovate competenze diverse per esempio dicevo prima io sto lavorando con biologi tecnologi alimentari ingegneri specialisti che ovviamente con le loro competenze integrano le mie più ci si come dire fossilizza nel fatto di essere siamo tutti architetti siamo tutti designer ecco probabilmente lì diventa difficile differenziarsi sul mercato per cui competenze differenti all'interno di uno stesso team di lavoro non necessariamente strutturato può essere anche lavoro a distanza però ci si confronta e da confronto di teste diverse con background diversi escono sempre le idee migliori oggi è fondamentale perché dicevo i clienti ci chiedono soluzioni non più progetti bene io direi che Marta non so se vuole dire qualcosa per chiudere ho visto che sono d'accordo a quello che dice Gian Pietro che comunque dobbiamo fare team ma confrontarci anche con delle realtà completamente diverse dal designer dall'interior cioè noi che facciamo locali dobbiamo parlare con lo chef ma non solo con lo chef ma anche con chi taglia l'erba del giardino cioè nel senso che capire proprio il luogo e anche cosa si si dà come servizio e quali sono gli spazi capire meglio proprio tutti altri altri lavori che ci potrebbero aiutare proprio a dare delle risposte innovative nuove rispetto al mondo Eureka ma al mondo degli hotel o al mondo proprio della casa cioè nel senso che dobbiamo comunque avere l'umiltà di di collaborare e soprattutto di confrontarci quello sempre assoluto e questo per esempio il coronavirus non deve essere un freno ma deve essere proprio uno stimolo di dire possiamo fare meglio e possiamo migliorare anche i comportamenti o modificare o addirittura aggiungere non è perché se ci viene il delivery il delivery è in aggiunta cioè non è che non mangeremo più nei nostri ristoranti semplicemente ci avremo un servizio in più come negli hotel ci dovranno essere dei servizi in più per essere scelti e questo è anche i barri di ristoranti che adesso riaprono che purtroppo hanno meno tavoli e comunque distanze e tutto quanto devono dare un servizio in più di evento musica live e anche se stanno lontani oppure di spazi aperti nelle piazze visto che adesso danno la possibilità di assisi per esempio hanno preso tutta la piazza adesso perché il comune dà la possibilità di ampliare gli spazi ma di vivere anche i luoghi quindi posso fare una digressione punto di vista sociologico cioè questa cosa dovrebbe far servire far capire ai ristoratori che come sempre e come i migliori hanno sempre fatto sono al servizio del cliente per cui riprendere questo rapporto umano che si è perso perché con questi locali che macinavano centinaia 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 di persone tutte le sere ecco si era proprio perso questa dimensione secondo me quelli che lavoreranno di più prossimamente saranno quelli che riusciranno a dare un layout accettabile diciamo almeno accettabile che non scendano con la qualità come dicevo prima e che soprattutto siano in grado di recuperare il rapporto col cliente perché è stata una delle mancanze che io personalmente ho subito negli ultimi anni in una città come Milano era molto molto evidente cioè business davanti a tutto Francesco avevi qualcosa da dire per chiudere altrimenti direi che ringrazio Gian Pietro perché sarà veramente interessante la conversazione e spero che se ne possano fare altre presto bene ecco che compare Benedetta per i saluti finali sono io che ringrazio voi comunque l'ultima volta che ci siamo visti eravamo tutti insieme in 120 130 da Dea Illuminazione che ci ha ospitato si parlava di lusso di alberghi di vacanze e guardate adesso di che cosa dobbiamo parlare i cinesi che dovevano arrivare e come dovevano soggiornare esatto esatto avevo parlato anche di quello e guardate adesso a volte come c'è quel detto dice pensa al meglio ma preparati per il peggio bisogna essere sempre pronti a come dire sul pezzo non smettere mai di studiare di documentarsi chi l'ha fatto in questo periodo farà bene chi non si è come dire non si è voluto non lo farà è destinato a rimanere al palo questo vale per i prefrontionisti vale per i bar per gli alberghi mentre parliamo il 90% degli alberghi a Roma sono tuttora chiusi cioè il 90% degli alberghi per cui qui o si cambia registro o non va a Roma a Roma